bene dai, bene, bene, tanta fama lui, anche io per favore io voglio aiuto io viaggio a Roma io voglio 5 euro o 2 euro per favore grazie a me non sta bene oggi grazie grazie anche io vorrei gente che mi regala sì, così va bene aiuto persone a chiedere aiuto ora scusami grazie amico buona giornata io sono molto contento io vorrei chiedere come qualcuno chiedere aiuto, come tu rispondi e così va bene io sono fatto video YouTube, guarda la camera mia io farò scusami questo camera mia scusami scusami vedi sicuro sì, guarda la camera mia farò scusami scusami